Buongiorno a tutti, o a dire il vero, buonasera, perché ormai sono... che ore sono? Le sei e mezza e Dave arriva sempre in ritardo, io lavoro tutto il giorno, lui non viene a darmi una mano, ma arriva quando ho finito di lavorare ormai, così sono bruttissimo, stanchissimo, ma lui almeno si è riposato durante il giorno, perché è un fancazzista. Questo ve lo dovevo dire perché lui è sempre dentro la telecamera, voi non lo vedete, ma prima o poi lo facciamo vedere, dai. Comunque, detto questo, oggi parliamo di un argomento molto importante, cioè i bacchi da seta. Infatti, settimana scorsa, forse poco più, abbiamo fatto uscire un video in cui parlavamo di un gelso, un gelso secolare, molto importante, che si trova a Cassano d'Adda, e lì avevo un po' accennato proprio i bacchi da seta, perché sappiamo che il gelso fa le foglie che, diciamo, sono l'unico alimento che i bacchi da seta mangiano. Quindi, oggi guardiamo i bacchi da seta perché sembrano degli animali del passato, e invece ancora oggi possono dare tanto alla nostra società. Quindi, in questo video parleremo essenzialmente di due cose. Primo, come mai bisogna levare i bacchi da seta, quindi la loro importanza, e poi proprio come allevarli, le cure di cui hanno bisogno. Partiamo dai motivi per cui bisogna levare i bacchi da seta. Secondo me ce ne sono almeno cinque, i cinque che secondo me sono i principali. Il primo è senz'altro un fattore didattico per i bambini. Tutti i bambini alle elementari in scienze fanno il ciclo delle epidotteri, quindi il ciclo delle farfalle. Dall'uovo alla farfalla, una cosa che studiano, che abbiamo studiato tutti, e che tramite bacchi da seta si riesce a vedere in casa nostra. Quindi vedere l'uovo, il bruchino, il bruchino che cresce, mangia, mangia, l'imbozzolamento, la metamorfosi e poi la farfallina. Una cosa che secondo me è molto carina. Secondo motivo, sempre per i bambini, è prendere confidenza col ciclo della vita. A noi sembra scontato che si nasce, si cresce, ci si riproduce e poi si muore inevitabilmente. Ma per i più piccolini non è un concetto così scontato, è una cosa che prima o poi ogni bambino deve affrontare, deve capire, comprendere, si spera nel migliore dei modi. E i bacchi da seta, avendo questo ciclo velocizzato, che in uno o due mesi tutto il ciclo l'hanno già fatto, permette ai propri bambini di iniziare a... cioè il bacco da seta contribuisce a questo percorso i bambini, perché possono vederlo nel pratico. Quindi vedono le uova, vedono il bruco che cresce, vedono la farfallina e poi inevitabilmente la sua morte. Quindi è qualcosa che iniziano un po' a metabolizzare. Il terzo motivo riguarda ancora più piccoli, cioè il prendersi cura di qualcosa. Qualcosa che sia tendenzialmente un essere vivente, quindi una pianta o in questo caso un animale. Per i più piccolini, secondo me, nella loro fase educativa è fondamentale imparare a nutrireli, curare e proteggerli. E i bacchi da seta servono, secondo me, anche proprio questo. Il quarto motivo invece è un po' l'opposto, riguarda i più anziani. Infatti c'è una cosa dei bacchi da seta che piacciono o agli under 10 o agli over 80 e poi c'è la via di mezzo in cui piacciono solo a me, però va bene così. Quindi per i più anziani perché? Perché i bacchi da seta sono un po' la nostra memoria storica. In Italia abbiamo coltivato i bacchi da seta per fare la seta, quindi la bacchi cultura, l'abbiamo fatta per secoli e secoli e l'abbiamo fatta fino alla fine del secolo scorso. Quindi i più anziani si ricordano ancora, a volte di averlo fatto addirittura, da bambini di lavorare proprio la seta, oppure i ricordi dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi c'è tutta questa fase di memoria, di ricordo e di storia, secondo me, importantissima, che non va dimenticata. Il quinto motivo non convince tutti, ma invece secondo me forse è il più importante, quello che i bacchi da seta riescono a costringere le persone a uscire di casa, perché loro, i bacchi da seta, mangiano le foglie del gelso. Le foglie del gelso non si trovano al supermercato. Per dare da mangiare i bacchi da seta bisogna uscire di casa, andare nei parchi pubblici, andare in campagna e questa è una cosa importantissima perché permette alle persone, primo, di imparare a riconoscere le piante, capire qual è il gelso, quale no. Poi in questa stagione trovare un gelso significa anche trovare le more, quindi mangiare anche frutti del proprio territorio, chilometro zero. E' una cosa importantissima perché spesso e volentieri le persone non hanno così contatto con il territorio e invece questo ti permette un po' di girare, capire se attorno a te c'è un buon ecosistema, oppure no, oppure che non c'è proprio un ecosistema. Quindi il bacco da seta funge anche per la tutela del territorio. Quindi ora parliamo proprio dell'allevamento dei bacchi da seta. I bacchi da seta secondo me sono tra gli animali più facili al mondo da allevare perché quando si parla di animali domestici o comunque domesticati all'uomo si pensa al cane, si pensa al gatto, qualcuno pensa anche al cavallo, ma tra questi c'è anche il bacco da seta. Infatti il bacco da seta ormai è elevato dall'uomo da 4.000 anni e in questi 4.000 anni l'uomo proprio l'ha selezionato. Lui, il bacco da seta, si è praticamente evoluto per stare con l'uomo. Infatti il bacco da seta in natura non esiste più, esiste solo come animale domestico e è di una facilità incredibile da allevare perché è un bruco abbastanza annoiato che preferisce mangiare e non gli piace arrampicarsi. Quindi è l'antitesi di un bruco in realtà. È una farfalla addirittura che non vola, quindi è facilissimo da allevare semplicemente in una scatola nella nostra casa. Ora facciamo un po' l'elenco delle cose da sapere per allevare i bacchi da seta. Partiamo dal cosa mangiano il gelso, le foglie di gelso. Mangiano le foglie fresche, quindi l'ideale è prenderle tutti i giorni e se non possiamo prenderle tutti i giorni dall'albero possiamo prenderle, metterle in un sacchetto, tenerle in frigorifero come si tiene l'insalata per 3-4 giorni rimangono. L'importante è non dargliele subito, ma dopo che sono state tolte dal frigo aspettare un po' di minuti perché come tutti gli insetti sono animali a sangue freddo, se gli mettiamo delle foglie a 4 gradi addosso non gli fa proprio bene. Poi, seconda cosa da sapere, cosa cacano? Gelso! Gelso è seccato perché loro non bevono, non bisogna mettergli l'acqua, loro l'unica acqua che prendono, che assorbono è quella delle foglie ed è lì proprio l'importanza di avere le foglie sempre belle e fresche. Un'altra cosa, dove si allevano i bacchi da seta? Dentro una scatola, una semplice scatola, se avete pochi bacchi da seta, fino a una decina, basta anche una scatola da scarpe perché il loro habitat naturale, a parte che non esistono più natura, quindi non è un habitat naturale, però il loro habitat sono le foglie di gelso, quindi se noi in una scatola mettiamo le foglie di gelso, loro le mangeranno, ci dormono, camminano sopra queste foglie, quindi l'ideale è avere foglie sopra e sotto di loro, quindi l'ideale è una scarpa, una scatola anche aperta perché loro sono bruchi che non si arrampicano, quindi che stanno liberi tranquilli, si mette le foglie e basta. Anche poi quando diventano delle farfalle loro non volano, quindi il loro posto è proprio la scatolina, io ho provato anni fa a metterli su un tavolo a cui avevo messo proprio delle barriere, ho detto gli lascio tutto lo spazio del mondo, poi in realtà quando sono diventati farfalle i maschi e le femmine non riuscivano neanche a trovarsi, perché loro due metri sono come noi 200 chilometri probabilmente, perché veramente era difficile per loro incontrarsi, tanto che ho preso le farfalline e le ho messe in una scatola per far sì che si potessero riprodurre. Quindi una scatola, certo non una scatolina, una scatola abbastanza consistente, loro ci vivono benissimo. Il mio consiglio è anche quando diventano un po' grandicelli, quando si avvicinano allo stadio poi di evoluzione per fare il bozzolo, mettete nella scatola anche dei bastoncini, così che loro si possano arrampicare e fare il bozzolo proprio su questi bastoncini, se no loro utilizzano i bordi della scatola, ma se avete tanti bacchi magari non bastano quei bordi, meglio mettere qualche bastoncino. L'ultima domanda che mi pongono è quanto vivono i bacchi da seta? I bacchi da seta vivono abbastanza poco, allora il bruco rimane circa per un mese, un mese e mezzo, poi anche a seconda delle temperature. In questo mese, mese e mezzo avete capito che mangia gelso e cacca gelso, basta! Poi fa la crisalide, cioè diventa una crisalide, quindi fa il bozzolo e rimane nel bozzolo circa due settimane, anche qualcosina meno. Poi la farfallina invece vive uno, due giorni, praticamente il tempo per accoppiarsi. Il maschio dopo l'accoppiamento subito si lascia andare, si schiatta. E invece la femmina aspetta ancora uno, massimo due giorni, per deporre le uova, ma anche lei deposte le uova, finisce pure lei. Dopo due settimane che le uova sono state deposte, se voi non fate niente, usciranno centinaia e centinaia di bacchi da seta. Se il vostro intento comunque non è quello di diventare dei bacchi coltori professionisti, il mio consiglio è quello di ridare i bacchi da seta a chi vi le ha dati. Nel nostro caso, infatti, abbiamo, proprio qui all'Orto Botanico, abbiamo fatto delle iniziative, prima di tutto, di educazione ambientale. Questo sia all'Orto Botanico che a Renovapark con i bacchi da seta ormai da anni. E poi abbiamo fatto un'iniziativa quest'anno che si chiamava proprio Adotta un bacco da seta. E abbiamo dato la possibilità alle persone, ai cittadini, di venire qua e ritirare i loro bacchi da seta, che quest'estate cresceranno e stanno crescendo in tutti gli effetti. Tra l'altro un evento è dato molto bene, sono arrivate all'incirca 150 famiglie, quindi diciamo un evento che ha funzionato e quindi i bacchi da seta hanno riscosso molto entusiasmo e per questo siamo felici. Quindi, se voi non fate niente, usciranno un sacco di bacchi da seta. Questo non è il mio consiglio, quello di continuare con i bacchi da seta, restituiteli a chi li ha levati. In natura purtroppo non si possono lasciare perché natura e bacchi da seta non sopravvivono, sono bruchi bianchi e neri su delle foglie verdi. Quindi, per intenderci, sono predatori del gelso e prede di qualsiasi altra cosa. E cosa dire, quindi se voi volete allevare ancora i bacchi da seta, queste uova potete metterle in frigorifero. Se le mettete in frigorifero si conservano per circa 8 mesi, quindi poi la primavera successiva, verso marzo, potete tirarle fuori dal frigo, così da fare un altro ciclo con i bacchi da seta. Questa era l'ultima cosa da sapere, vi saluto, spero che il video vi sia stato utile e di interesse e ci vediamo alla prossima su curiosità delle piante, questa volta non proprio piante, ma quasi, diciamo. Ci vediamo alla prossima, fate i bravi, ciao!